Praticamente, le domande sono 14, però le prime 7 sono più personali per te, mentre le altre 7 sono un po' più generiche, un po' più scialle, tranquille. Poi dimmi tu se vuoi alternare e farne una e una, oppure farle prima tutte 7 e poi le altre 7, o se non hai voglia di rispondere a qualcosa, semplicemente non rispondere, perché può darsi e tu non ne abbia voglia. E niente, dimmi tu quando partire. Guarda, ti dico che ti sto amando, per il resto puoi fare quello che ti pare, cioè nel senso vai tu, per me è indifferente. Ok, va bene. Allora, la prima. È una domanda un po' generica, ma sono incuriosita dalla tua possibile risposta, e cioè cosa vorresti che le persone pensino di te? In generale, quindi non solo come Mudimbi. In generale, sì. Ok, cosa vorrei che le persone pensino di me? Dammi qualche secondo. Eh. Che sono una persona onesta, a livello appunto di trasparenza. Mi piacerebbe venire percepito come una persona, sì, credo che l'onesta è la cosa che mi interessa di più. È la cosa che mi interessa di più. Quindi non una persona infallibile, non, cioè non voglio, non ambisco al superuomo, ma ambisco alla trasparenza, anche e soprattutto nella mia fallibilità. Questa è una cosa che mi piace veramente. Questo, solo questo mi interessa. Ok, bella risposta. Poi vado con la seconda. Ti prego, dimmi che mi stai anche dando un punteggio. E alla fine scopriremo che stai tracciando il mio profilo o cose del genere. No. Ok. Allora, la seconda domanda è, C'è mai stato un momento in cui sentivi di aver già dato il massimo da un punto di vista lavorativo? Cioè in cui hai pensato, ok, in questo punto non ci arriverò mai più, è il massimo che ho dato. Allora, Supercalifrigida rappresenta questo tuttora. Perché me lo chiedo, cioè me lo sono chiesto diverse volte, ma io riuscirò mai a scrivere un'altra roba del genere? Ovviamente no, perché l'ho già scritta e fare solo la copia. Poi, riuscirò a scrivere qualcosa di meglio? Probabilmente sì, ma sarà diverso e poi lì entrano in gioco i gusti. A livello di... Sento di essere arrivato al mio massimo? No, non ho mai avuto la sensazione. Però ho spesso, abbastanza spesso, la sensazione di essere arrivato ad un punto fuori dalla mia portata. Nel senso, mi sto caricando di troppe cose e vado in burnout. Cosa che mi è successa ieri sera. Ieri sera ho passato veramente un... un tardo pomeriggio di merda, perché mi è tipo esploso il cervello. Sono dovuto uscire sotto la pioggia a farmi una passeggiata. Tra l'altro non avendo nemmeno preso l'ombrello. Sono proprio uscito in pigiama, mi sono messo solo il bomber, l'ho lasciato tutto acceso, perché mi ha proprio sfarfallato la testa. Quindi questa è la cosa che mi capita più spesso. A rendermi conto che ho fatto troppi passi più lunghi della gamba, me ne sto accorgendo e quindi devo tornare indietro. Però l'idea di dire sono arrivato al mio massimo, non farò mai niente di meglio, no, non ce l'ho mai. Anche perché lo trovo presuntuoso da parte mia. Credere di sapere quale sia o quale sarà il mio massimo. Quindi no. Ok. E la terza domanda in realtà era un po' legata anche a questo. Ti senti realizzato? Cioè il te giovane sarebbe orgoglioso di ciò che sei e di ciò che fai ora? Sì, di brutto. Però attenzione, il me giovane sarebbe orgoglioso. Il te giovane. Esatto, è lo stesso me giovane, ma anche varrà probabilmente anche per te, per chiunque altro stia ascoltando. È esattamente come vedevi, vedevamo, o vedete per i più giovani, i trentenni, i quarantenni, quando avevamo, non lo so, quattordici anni, dieci anni, vent'anni. Cioè, a vedermi adesso, ma con gli occhi di quando ero adolescente o più giovane, avrei pensato, minchia, che figo. Cioè, quanta roba ho fatto, quanta roba farò, eh. Quando però ti trovi nei panni dell'adulto, ti rendi conto che hai... Cioè, no, non lo so questo se vale per tutti, vale per me sicuramente. Nonostante abbia fatto, non mi sembra di aver fatto così tanto. Nonostante sia cresciuto, non mi sembra di essere cresciuto così tanto. Cioè, ho già detto una cosa del genere qualche live fa, più vado avanti nel tempo e più mi sembra di legarmi con il me del passato, ok? E oggi, tra l'altro, riflettevo su una cosa, dimmi se ho un tempo limitato per rispondere alle domande, e oggi riflettevo... No, no, assolutamente, anzi, stai contenta se parli di più. Oggi riflettevo su una cosa, qualche anno fa avevo iniziato a scrivermi delle lettere, delle lettere fisiche scritte a penne, a mano su un foglio, a imbustarle e a lasciarle nella scatola dei ricordi, o una scatola dove conservo le cose. Le scrivevo solo nel momento peggiore, nel senso che quando sentivo di essere arrivato a un nodo emotivo della mia vita che mi si è convergeva tutta la frustrazione in quel periodo, magari anche in quel giorno, in quel pomeriggio, mi scrivevo una lettera. La chiudevo e l'avrei riaperta il giorno che fosse successa la stessa cosa, ovvero sia andavo giù di testa, ma prima ne avrei scritto un'altra. Quindi davo la nuova lettera al Michel del futuro e aprivo quello del Michel del passato. Ora, ci sono tante specifiche da fare che giustificano anche quello che sto per dire, però mi stupiva tutte le volte il fatto che scrivevo praticamente le stesse cose a distanza di due, tre, cinque, otto anni. Cioè le stesse paure, le stesse paranoie, gli stessi motivi, le stesse valutazioni. Ed è una cosa che, cioè, mi toccava molto, scoppiavo in lacrime tutte le volte, perché... È anche una cosa positiva comunque, perché da un lato significa che eri sempre onesto con te stesso. Sì, però da un lato ti rendevi anche conto che non eri andato avanti di un passo, perché credevi le stesse cose irrazionali, perché riesco abbastanza a distinguere tra paure, paranoie, razionali e irrazionali. Quindi era proprio nell'ambito delle paranoie e mi rendevo conto che non era cambiato niente. E... Scoppiavo in lacrime perché mi dispiacevo per il Michel del passato. Perché pensavo, quel poveretto ha scritto questa cosa e io, dopo sei anni, non sono riuscito ad aggiustargli nulla. Poi non è certo ho smesso di scrivere queste lettere, però dovrei riniziare, perché sono curioso di vedere se sono riuscito a migliorargli qualcosa. Perciò, ecco, è una risposta molto larga alla tua domanda, però vivo abbastanza questo rapporto conflittuale in cui mi rendo conto che se guardo avanti con gli occhi del Michel di una volta sono molto più positivo. Se guardo indietro col Michel di adesso sono molto più negativo, perché sento che non è passato così tanto quanto credevo o pretendevo cinque anni fa, dieci anni fa, quando avevo vent'anni. Vivo un po' in questo limbo, diciamo. Penso che questo faccia anche parte del fatto che tu tendi a criticarti molto, no? Sicuramente. Ok, quarta domanda. C'è stato un momento in cui hai preso in seria, no scusa, in considerazione la possibilità di lasciare la musica e se sì, qual è stato l'evento scatenante? Beh, post Sanremo, la mia idea era proprio quella di mollare. Mi sono trasferito a Milano, ho provato ad andare a bussare alla porta di alcune radio perché conoscevo alcuni speaker. Ho provato tante volte. Allora, è stato un rapporto travagliato. Io faccio musica più per merito della musica che per merito mio, tra virgolette. Nel senso che io ho provato a mollarla diverse volte. La musica mi si è ripresa, mi si è ripreso diverse volte. C'è stata una prima fase di corteggiamento che sono questi... Ormai non ricordo bene, quindi con le date non sono mai troppo affidabili quando parlo del passato. Però diciamo, i primi sei anni, più o meno, dai miei 14 ai miei 20 anni, in cui ogni due anni, circa, anno e mezzo, due, smettevo di scrivere perché era una chiavica. faceva schifo quello che scrivevo, che cazzo lo sto facendo a fare, anche perché soldi era... Cioè non era nemmeno un'utopia in quegli anni, poter guadagnare con la musica, perché Fabri e Marrakesh ancora non erano usciti fuori nel mainstream, nelle radio. Quindi lo facevi così per... per l'orgoglio, per la scena, sì, per te stesso, per lo swag, che ancora nemmeno quello esisteva. E quindi decisi di mollare diverse volte per provare a dedicarmi ad altro. Però alla fine l'ho sempre trovato un porto sicuro, perché un po' era qualcosa che non sapevo fare bene, però sapevo fare meglio di quando avevo iniziato e sapevo fare meglio di chi non ci aveva mai provato. Ci avevo già investito del tempo e quindi, sai, un po' anche la rottura di palle di dire ci ho buttato un anno e mezzo che poi diventano quattro, che poi diventano... E quindi dai, ci riprovo. Un po' perché, questo lo devo riconoscere, il merito della musica, è gratis. Cioè, nel senso, avevo provato col writing, avevo provato con lo skate, avevo provato un sacco di cose che costavano soldi, in qualche maniera. Dovevi comprare gli spray, dovevi comprare le tavole, mi facevano male le caviglie ad andare con lo skate e poi era una chiavica. Cioè, non ho mai chiuso un holly in vita mia. Questa è proprio una cosa che mi ferisce l'orgoglio. E la musica era gratis, perché le basi te le scambiavi, una penna, un foglio dentro casa. fortunatamente si trovavano sempre. E quindi è nato così il mio rapporto, cercando di smettere. Cioè, io ho iniziato a fare musica cercando di smettere. Poi è successo, verso i 21 anni, credo l'ultima volta proprio forte in cui avevo pensato di smettere, e ancora non era diventato il mio lavoro, perché avevo iniziato a praticare pugilato. E quello già mi assorbiva il 99% del tempo, perché quando inizio a fare una cosa mi ci butto sempre a capofitto, e poi mi rendo conto che magari ho esagerato, però all'inizio do sempre tutto quello che riesco a dare. In più ero in una relazione, la prima relazione importante e abbastanza matura della mia vita, non avevo il tempo per fare tutto quello che volevo. Avevo già un po' scazzato con il rap, e quindi avevo pensato di dedicarmi sempre alla musica, ma in un'altra maniera, quindi avevo iniziato a fare il DJ. Perciò scrivere era diventato l'ultimo dei pensieri. Se non fosse che, ovviamente, l'amore vince su tutto. E quindi per dedicarmi a questa relazione che stava naufragando, prima mollo la roba del DJ, perché comunque anche quello ovviamente richiede tempo, trovare serate, scegliere dischi e bla bla bla. Ho accannato il discorso box, perché adesso mi è appena venuto in mente un ricordo che ti racconto. Ho accantonato il discorso box, perché idem, cioè o dai il tutto per tutto, rischi veramente che ti cambino la faccia, quindi forse è il caso di non salirci nemmeno sul ring se non riesci a prepararti come devi. per dedicarmi tutto questo alla relazione che tempo due mesi finì. Venni lasciato, l'unica volta in vita mia che sono stato lasciato. E quindi mi ritrovai con il culo per terra. E chi è che mi si riprese? La musica. Il ricordo che mi è appena venuto in mente è quando tornai a casa di questi miei amici, Gangi Chilla e Torpedo Colorado. Sono due ragazzi di macerata, mi sembra tutti e due, che sono stati i miei mentori a livello di rap, ma a livello di tutto, anche a livello di vita in una certa maniera. E ricordo chiaramente il giorno che entrai a casa di Gangi e gli dissi che avevo scritto un testo e lui mi scoppiò veramente in un urlo di gioia, è tornato il figlio al prodigo, perché ovviamente soffriva e sapeva che avevo accannato, che il rap basta ragazzi, ho chiuso con sta roba. E ricordo veramente quel giorno, tipo alleluia, è tornato il figlio al prodigo. E da lì, ricordo anche quel giorno, quello che cantai, ricordo quanto ero emozionato, perché era un po' una seconda prima volta. Da lì poi non mi fermai più, fino a Post Sanremo, in cui ho messo in discussione tutto in generale, non solo la musica, però ovviamente la musica in primis, perché ho messo in discussione me, io e la musica, eravamo e tuttora siamo probabilmente la stessa cosa nella mia vita. Questa è la risposta. Bella risposta. Meno male. No, sei stato, ti spieghi molto bene, mi piace. Ottimo. Allora, la quinta, la quinta domanda. Ricordiamo, per chi si fosse collegato solo ora, che ne sono 14, quindi è ancora lunga, non vi siete persi un gran chese, arrivate solo adesso. Secondo me, secondo me, quelle più toste, già le risposte. Allora, la quinta domanda, in realtà, credo tu abbia, in parte, risposto, però te la faccio comunque. Sei mai saturo della musica degli altri, per il fatto che sei costantemente, cioè, col fatto che devi farti tu la tua musica, ti stufi di ascoltare musica di altri? L'altro giorno ero al concerto di questa ragazza, Anna Carol, che presentava il disco all'Ostello Bello, ragazza per cui ho scritto anche una canzone che portò a Sanremo, con cui provo ad andare a Sanremo. Ero lì, e incontrai quest'altro amico, tecnico del suono, produttore, nerd, tantissimo nerd della musica, parlavamo un po' di quello che sto facendo e non sto facendo, e lui una certa disse questa frase, ti ripeto, lui lavora con la musica, lui fa tutto nell'ambito musica, e disse, a me ascoltare musica mi fa schifo, io proprio non l'ascolto, non ne posso più una cosa che mi fa vomitare, cioè nel senso, adesso non era una citazione proprio fedelissima, ma il concetto era quello, cioè musica no, ascoltarla no, io vi ho detto più volte che non ascolto musica, adesso sto iniziando ad ascoltare musica perché un po' voglio riabituarmi, mi sono molto lobotomizzato con gli occhi, quindi Netflix, YouTube, YouTube che bene dico, perché comunque per me YouTube è la mia università, Netflix ni, cioè nel senso ti guardi serie, ti guardi cartoni, te li metti anche in sottofondo mentre fai roba, adesso sto iniziando ad ascoltare musica, sia perché voglio portarla in live, quindi voglio che si torni molto più a ascoltare musica, commentarla, vi racconto aneddoti, e sia perché mi rendo conto che ha un effetto e una rilevanza ben diversa da tutto il resto, tant'è che ieri quando sono andato in Burnout, poco prima di arrivare a toccare la cima e sfondarmi la testa, cosa che non è successa, ho messo musica così proprio di getto, nel senso non ho nemmeno troppo pensato a cosa cercassi, ma la prima roba che ho trovato l'ho messa e effettivamente mi ha molto molto calmato e non ricordo nemmeno che canzone fosse, quindi sì, è un rapporto molto complicato anche perché l'avevo detto in un reel che non ho mai pubblicato credo, la grossa fregatura del fare musica rispetto a qualsiasi, quasi qualsiasi altro tipo di lavoro è che non puoi ascoltare musica mentre lavori, cioè nel senso non è che posso ascoltare musica mentre registro, non posso ascoltare musica mentre produco, non posso ascoltare musica cioè non posso o mentre scrivo non è che posso ascoltare le canzoni di qualcun altro nel frattempo e è anche vero come giustamente sottolineato tu che dopo che scrivi o registri o produci o mix o per qualsiasi cosa per 4, 5, 6, 8 ore ma che voglia c'hai di sentimusica cioè hai proprio le orecchie lesse ma non solo a livello psicologico anche a livello fisiologico perché comunque l'orecchio si stanca e chi lavora con la musica ma a livello proprio di ingegneria del suono lo sa molto meglio di quanto lo possa sapere io che comunque lo so cioè più ascolti e più il tuo orecchio reagisce in una maniera diversa perché si stanca e distorce tu non te ne accorgi ovviamente te ne accorgi nel momento in cui lavori con la musica e se fai una pausa di 15 minuti quello che senti dopo 15 minuti è diverso da quello che sentivi 15 minuti prima quindi lo fai per un tot di ore capisci che poi con la concentrazione col fatto che magari stavi scrivendo stavi interpretando stavi modificando che cazzo ha voglia di sentirla dopo però sai un po' lo trovo un po' come il riuscire a ritagliarsi del tempo per leggere piuttosto che per fare attività fisica cioè per me la musica ha quel tipo di rilevanza nella vita è un momento sacro lo reputo ancora un momento sacro perché io sono della generazione che ascoltava musica solo ascoltando musica e senza fare nient'altro ti compravi il cd o te lo prestavano tornavi a casa mettevi il cd mentre andava al massimo ti leggevi il libretto del cd ma non facevi altro non stavi al cellulare perché i cellulari o non c'erano o non facevano un cazzo non guardavi la televisione non giocavi a videogiochi nel frattempo ascoltavi musica esattamente come ti dedichi era quel momento ecco e non voglio fare il nostalgico nel senso che le nuove generazioni sono arrivate in un altro momento e l'hanno vissuta in un altro momento io mi rendo conto che internamente interiormente quel momento quel legame ogni tanto ho bisogno di andare a rispolverarlo è difficile perché tendo come tutti a saturare la mia giornata cioè non c'è un non c'è un fine settimana che la domenica sera non penso cazzo se domani fosse stato domenica sarebbe stato perfetto perché ho sempre l'illusione che se solo avesse avuto un'ora in più un giorno in più sarei riuscito a fare tutto quello che volevo una cazzata cioè se anche la settimana durasse un anno arriverei all'ultimo giorno dell'anno e direi se solo avesse avuto un'altra ora di sicuro avrei potuto ascoltare quest'album con calma no però mi impegno ogni tanto a rimettermi un po' incarreggiata e attualmente l'impegno tra virgolette dell'ascoltare musica è sul podio delle mie priorità assolutamente sì adesso però ok no perché ricordo anche poco tempo fa nelle prime live in cui spiegavi anche tu che effettivamente eri un po' stufo effettivamente di continuare ad ascoltare musica sì sì te lo confermo tuttora però poi ascolti apri Spotify ascolti diciamo la prima cosa che ho fatto vabbè inizialmente proprio algoritmo fammi una radio partendo da questa canzone che mi ricordo che mi piace e vediamo cosa ti suggerisce però dopo un po' inizi a pensare minchia non ascolto musica veramente da due anni o quello che sia ma fammi vedere questa band che amavo se ha fatto qualcosa fammi vedere quest'artista che amavo e scopri praticamente tutta una nuova discografia perché nel frattempo tipo i Sonlux che ho postato su Discord un po' di tempo fa sono usciti con tre album tre o quattro album meravigliosi stamattina ho sentito il secondo e quindi un po' ti si riaccende anche quella vena da fanboy perché la cosa che più mi ha fottuto e probabilmente fotte chiunque ma di nuovo la mia generazione cd che poi non abbiamo detto una cosa importante quel cd soprattutto se te l'hai ricomprato anche se faceva cacare comunque te lo riascoltavi te lo dovevi sentire te lo sentire te lo risentivi ci avevi solo quello cioè che cazzo e una cosa che probabilmente fotte soprattutto la mia generazione è anche questo questo eccesso questo bombardamento di tutto e nello specifico di musica e quindi anche il discorso algoritmo che ti suggerisce una marea di canzoni per carità però resta sempre quella cosa che non le hai scoperte tu e quindi ti piacciono comunque però non ti ci stai legando ti ci leghi nel momento in cui guardi chi la sta cantando vai sul suo profilo ti ascolti altra roba magari ti ascolti un album quel legame è quello che tendo a volermi riprendere quindi per questo motivo i son looks che credo di averli trovati o me li suggeri qualcuno comunque è partito tutto da una canzone mi sono ascoltato gli album e adesso proprio quest'idea di rimettermi a scoprire a scavare con le mie mani e non venire imboccato che è fenomenale l'essere imboccato però ti ho detto lascia il tempo che trova perché quante quante canzoni abbiamo salvate nella playlist dei preferiti Spotify e quanti titoli adesso saremmo in grado di di ripetere a memoria o quanti nomi di artisti una percentuale irrisoria rispetto a quanti mi piace abbiamo messo perché manco guardi spesso a chi la canta mi piace mi piace e rimane lì magari manco la riascolti questa cosa mi ha mi ha ucciso un po' anni fa e quando scrissi Miguel fu probabilmente il primo grande periodo in cui non ascoltai musica parlai con una persona che lavora nella musica e mi disse anche a me ciclicamente succede la cosa che faccio io che è interessante vado ad approfondire degli artisti nel senso non ho voglia di ascoltare musica ok scelgo un artista che mi piace particolarmente e cerco di approfondirlo ma anche a livello di storia a livello di lui mi fece l'esempio di una volta in cui andò ad approfondire il discorso gigantesco Beatles quindi senza nemmeno volersi ascoltare gli album iniziò a comprare libri iniziò a guardare documentari cioè l'ha presa diciamo da da un ingresso secondario però comunque lo trovò stimolante è qualcosa di intrigante che non sono mai riuscito a fare finora anche perché sui Beatles hanno scritto parecchio sui Son Lux non so quanto abbiano scritto però credo che ne siamo vittime un po' tutti noi che facciamo musica così come non so gli attori quanti film attori o registi quanti film guardino e per quanto tempo riescano a guardarli senza che gli venga lo sbotto quindi credo sia normale ecco lo so però immagino che per gli attori sia anche un po' diverso comunque la parte della recitazione quando poi invece guardi il film comunque trovo siano molto diversi invece per la musica alla fine quando stringi penso che più o meno se tu che so scrivi e ti metti a cantare poi non hai voglia effettivamente di sentire altre persone cantare lo trovo assolutamente normale sarebbe strano il contrario certo mi senti? si 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 ti sento ti sento allora vado con la sesta prego ti sei mai dovuto cosa? prego ah ok ti sei mai dovuto giustificare o hai mai dovuto dare delle spiegazioni per ciò che hai scritto a qualcuno che non ti conosceva cioè ti faccio un esempio a voi no 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 ma ti ho già capito alla perfezione si 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 ok è qualcosa che è capitato che tuttora capita è qualcosa che inizialmente ho vissuto in una maniera più strafottente che poi mi ha un po' iniziato ad annoiare ed irritare il fatto di dover stare a spiegare la verità è che non ero troppo né troppo preparato all'evenienza né troppo intelligente nella deriva di intelligenza più empatica nel senso che non mi mettevo mai realmente nei panni dell'altra persona quindi pensavo se non la capisci sei un coglione una cogliona tu e non è mio compito spiegartelo togliendo la prima parte della frase sono tuttora convinto della seconda nel senso non è mio compito spiegarlo poi non è che sei deficiente se non la capisci però sicuramente il mio lavoro si ferma alla creazione creo e mando fuori poi sono consapevole che può essere tutto fraintendibile sono consapevole che molte cose che ho scritto è molto più facile fraintenderle che prenderle per il verso giusto perché ti dovrei dare tutta una serie di di elementi per poterla valutare già il semplice fatto di non conoscere me personalmente o perlomeno non avermi mai sentito parlare non aver mai visto come ragiono espongo non aver mai ascoltato magari anche altro è ovvio che prendo quella e da quello io penso che tu voglia dire esattamente quello che stai dicendo e che tu sia un coglione adesso lo capisco non lo trovo non lo trovo assolutamente sbagliato una cosa che dicevo in passato in una maniera più paracula e che adesso invece trovo molto più vero è che è bello il fatto che cose che ho scritto inneschino delle reazioni ma non è tanto quella roba perché l'arte deve essere provocatoria no perché significa che ho toccato un nervo che ho toccato qualcosa che non ti sto a cantare la serenata al sole quanto è bella la vita che non c'è niente di male però ovviamente rimane totalmente innocua e quello è il suo spirito e questo è giusto che susciti nelle altre persone ovvero sia il nulla quando invece scrivo qualcosa di spigoloso e mi rendo conto che la gente ci va a sbattere emotivamente ma non dico che mi do il 5 da solo però poco ci manca nel senso ok ho scritto qualcosa che perlomeno suscita una reazione poi un ragionamento che ho fatto negli anni a cui sono arrivato è che anche qui per metà potrebbe sembrare essere paraculi e forse lo è però per metà è oggettivamente vero il fatto che qualcosa in un testo susciti una reazione non parte da me e da quello che ho scritto ma parte dal fatto che quello che ho scritto esiste nel mondo reale perché altrimenti nessuno si offenderebbe o verrebbe triggerato se scrivessi cose che poi non esistono realmente nel mondo reale se scrivo cose sessiste e vieni triggerato è perché effettivamente viviamo nella società in cui viviamo capisci quello che intendo quindi non è che mi voglio de-responsabilizzare nel senso non mi interessa la cosa però a volte mi rendo conto di quanto si possa puntare il dito su una cosa che è solo il riflesso di una più grande non so se riesco a farmi capire al cento per cento dimmi ti ho capito perfettamente perfetto è l'unica cosa di cui mi interessa sì allora la settima è un po' generica però a cosa ti senti grato in questo momento della tua vita a cosa mi sento grato in questo momento della mia vita alle batoste che ho che ho preso ma in realtà che mi sono dato di recente sì sono sempre più sono sempre più convinto che le cose che sono andate male e la deriva soprattutto che ha preso la mia testa in determinati momenti adesso mi stiano aiutando ho sempre questa sensazione del c'è un film che credo abbastanza mediocre che ho visto tempo addietro ma di cui non ricordo nulla perciò penso che fosse mediocre che si dovrebbe chiamare un giorno questo dolore ti sarà utile ok non l'ho mai visto titolo meraviglioso allora è anche vero che con un titolo del genere t'aspetti madonna che capolavoro quindi forse hanno sbagliato il titolo più che il film però è esattamente quello che sento che sento è esattamente questo penso e di nuovo sta cosa la ripeto perché l'ho già detta altre volte però vale la pena Caparezza mi disse esattamente questa cosa poi non mi citò il titolo del film però mi disse esattamente espresse esattamente questo concetto un giorno tutte queste pippe mentali tutta questa frustrazione tutto quello che stai passando e che hai passato ti tornerà utile e lo sto vivendo lo sto vivendo sia a livello esteriore che interiore quindi sia nelle cose che faccio mi rendo conto quando sto per incappare in errori che ho già commesso e quindi mi fermo mi fermo un attimo prima o comunque faccio delle valutazioni con diciamo con il senno del poi perché l'ho già fatta sta cazzata mi sono già buttato a capofitto in questa maniera ho già pensato che la colpa a cui fosse mia e invece adesso mi rendo conto che la colpa se questa cosa non sta funzionando non è mia è semplicemente che non funziona per questi motivi è semplicemente che devo fare questo invece che quest'altro cioè avere una consapevolezza avere una memoria storica anche poi nell'emotività quindi nella parte interiore mi sento di merda ma mi ci sono già sentito di merda in passato ma se oggi guardo il passato mi rendo conto che non era non stava succedendo un cazzo cioè perché se potessimo veramente guardare indietro e vederci nei momenti più bui spesso e volentieri ci renderemmo conto che è una roba nostra certo che va rispettata però spesso è una roba davvero immaginaria questa cosa l'ho sentita poco tempo fa l'avevo già sentita altre volte ed è super interessante non ci avevo troppo riflettuto in passato ovvero sia che il 90% sparo una una per centone a caso il 90% delle cose che ci preoccupano non sono cose reali e non succederanno mai e questo è un dato di fatto cioè tutte le paure la maggior parte sono cose che non succederanno mai però tu ti blocchi perché hai paura che possa succedere ti convince che possa succedere è successo a qualcun altro e lo vivi come se fosse appunto una una possibilità reale anche nella tua vita però il 90% la maggior parte delle cose che ci bloccano che ci frustrano sono cose che non sono realmente successe ma ce le stiamo vivendo in una maniera di merda per bias e robe ovviamente a cui siamo imprescindibilmente legati ci mancherebbe però adesso mi sento un passo perlomeno più avanti rispetto a questo e quindi vivo molto nella tranquillità è paradossale il fatto che io dica vivo nella tranquillità perché ho appena detto che ieri mi stava esplodendo il cervello però mentre ieri mi esplodeva il cervello io pensavo ho 37 anni e non ho mai avuto un attacco di panico e ad oggi non so cosa sia un attacco di panico io sono convinto di essere una persona poi magari finisco sta chiacchierata e mi viene l'attacco di panico della vita però sono convinto di essere una persona che si sa veramente io uso la parola autococcolare nonostante sappia darmi veramente tanto addosso e un giorno farò un video su questa cosa di come in una certa maniera mi aiuti il fatto che mi sia già dato addosso da solo in passato e quindi io sia immune a molte cose del presente però so anche come non lo so mi viene il verbo accarezzarmi sarà perché ho un ricordo di quando ho avuto l'unico vero grosso momento di depressione verso i 18 anni e ricordo chiaramente che mia madre mi stava accarezzando io so ho la consapevolezza di saperlo fare molto con i miei stati d'animo ok e questo deriva appunto dall'averci preso sui denti tante volte in passato essendomelo anche dato da solo da solo la mazzata sui denti in passato e quindi ad oggi non so se sto andando fuori dai binari della domanda però questa è una cosa che veramente ad oggi mi aiuta e di cui sono molto molto riconoscente le mazzate del passato perché servono veramente se riesci ad andare avanti ovviamente è una cosa bella comunque che tu riesca a trarne vantaggio diciamo da questa esperienza negativa ti faccio una domanda che non era dopo questa ma in parte hai già risposto quindi te la faccio secondo te vale la pena di vivere una vita esclusiva del piacere quindi senza nessuna sofferenza rifammi una domanda in un'altra maniera allora secondo te una vita in cui si prova solo piacere e non c'è sofferenza la vivresti bene perché logicamente ok non penso perché qui poi ci sono due scuole di pensiero c'è chi pensa sì perché non provi mai nessuna sofferenza quindi bellissimo ma poi c'è un'altra scuola in cui dice beh senza sofferenza non capiresti la bellezza dei momenti facevoli diciamo non avresti appunto il contrattare esatto ma a parte che credo finché siamo nel mondo del teorico ha senso nel mondo pratico non credo proprio che sia possibile no è tutto teorico eh esatto però se fossimo in un mondo teorico e io potessi scegliere una vita di solo piacere non il punto è che ti dico di no perché non riesco a capire come sarebbe possibile però ovvio se tu mi dicessi io ti garantisco che sarà solo piacere e sarà veramente piacere beh magari un pensierino ce lo farei anche se anche se è innegabile come a volte piacere e sofferenza si mescolino e siano legati cioè convergano nello stesso punto perché senza andare nel sadomasochismo ok che però comunque anche quella è una è una convergenza di sofferenza e piacere però ci sono situazioni emotive mi viene da pensarla più sulle relazioni effettivamente sulle relazioni tra esseri umani poi non so se c'è anche qualche altro esempio ma sicuramente ci sono molte molti esempi in cui la sofferenza è piacere nel senso che che cacchio ti devo dire di nuovo anche solo per esperienze pregresse per bias cognitivi ci sono alcune persone che hanno veramente bisogno di soffrire in una maniera diciamo decente umana poi non spingiamoci troppo in là perché altrimenti diamo messaggi non è quello che vogliamo in sto momento quindi non saprei non saprei veramente dirti sì o no questa è una domanda che in teorico lascerei abbastanza sospesa penso che in realtà già è riposto ottimo a che domanda siamo siamo allora ti ho letto dopo la settima siamo passate alla dodicesima perché era questa qui sul piacere però praticamente te ne ho fatte otto ok abbiamo appena superato la metà va bene ok allora sono banali le altre però te le faccio comunque a cosa pensi quando sei da solo a tutto a tutto cioè sei una di quelle persone che quando è da solo si immagina il mondo qualsiasi cosa allora ho il ricordo più nitido del mio parlare a me stesso e prendere derive totalmente irrazionali in un pomeriggio a casa di mia nonna dove ho vissuto dai tre credo dai tre ai 13-14 anni e l'ora del riposino pomeridiano forzato avrò avuto credo boh non lo so 4-5 anni una cosa del genere non so se facevo no non credo che facessi elementari ero anche più piccolo e ricordo chiaramente che ero in questa cameretta la mia cameretta da solo steso sul letto con le gambe sul muro ok ok e ricordo chiaramente che feci questo ragionamento che legava non chiedermi come i vulcani e i cammelli e mi stavo stavo pensando delle robe ho solo questo ricordo avevo la testa che vagava parlavo a voce alta e ricordo chiaramente questa cosa che cercavo no cercavo c'ero riuscito avevo trovato una connessione tra i vulcani e i cammelli ma così come una volta calcolai su un pezzo di carta allora io finché mi dici quanto fa 2 più 2 ce la posso ancora fa se ci metti una virgola già mi metto a piagne ma un giorno calcolai su un pezzo di carta basandomi su mie teorie il diametro della terra inizio a fare dei conti così a caso e riconduco veramente a quello il nitido il più nitido ricordo di quanto io sia stato abituato mi sia abituato a parlare da solo e a pensare a qualsiasi cosa quello che mi manca spesso facendo una vita adesso purtroppo molto sedentaria e per niente sportiva che è una cosa che mi uccide abbastanza tutte le volte che vado a correre la cosa che amo di più è come dopo poco il mio cervello inizia cioè il mio cervello io inizio a parlare da solo e di argomenti che non scelgo in realtà che mi interessano spesso tipo ieri durante succede anche con le passeggiate però mi capita molto meno di passeggiare da solo di correre da solo invece sì ieri mi sono preoccupato abbastanza perché per il primo tratto di strada avevo proprio il cervello veramente bloccato e mi sono reso conto che fissavo tra l'altro un punto a mezz'aria nel vuoto ed ero veramente bloccato cioè camminavo però sentivo proprio che il cervello stava tipo rimettendo a posto le cose perché un attimo Michelle che hai fatto un casino qua prima che riniziamo a macinare dobbiamo riorganizzare due cose sugli scaffali mentre poi stavo tornando ho iniziato a spiegarmi e a spiegare a un'interlocutrice non immaginare una persona con cui avevo già parlato in passato perché secondo me non esiste il libero arbitrio che devo ammettere che da quando ho iniziato a pensare questa cosa mi ha triggerato abbastanza quindi spesso ultimamente penso al concetto di infinito di universo di entropia di libero arbitrio entropia l'ho capito tre giorni fa finalmente che cos'è però diciamo in questo momento della mia vita mi viene da pensare a tutto quello che è più grande del quotidiano e lo trovo super affascinante lo trovo super affascinante anche perché rimette davvero in prospettiva a qualsiasi cosa qualsiasi cosa è veramente insignificante tutte le mie paranoie le tue le nostre cioè sono tutte date a degli inscatolamenti che ci siamo dati noi come società ok adesso non è che voglio fare né il complottista né il figlio dei fiori che dice c'è altro la vita e bla 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 no voglio fare semplicemente quello che appena si affaccia a concetti basilari di fisica dice cazzo se quelli i fisici sanno effettivamente hanno decifrato meglio di noi società normale hanno decifrato meglio il meccanismo in cui siamo in cui siamo dentro mi rendo conto che effettivamente noi non ci stiamo capendo un cazzo semplifichiamo tutto ovviamente per poter vivere il nostro quotidiano come un gatto semplifica ancora di più perché ovviamente il tuo cervello arriva fino a una certa e non puoi dare risposte a tutto e molte risposte manco ci puoi proprio arrivare o non le capiresti se io spiegassi al mio gatto le addizioni non credo che riuscirebbe a ottenere grandi risultati però ultimamente sto pensando ecco se devo dirti negli ultimi mesi penso sempre costantemente all'universo che si espande all'infinito e a quanto tutto questo sia sia una nostra invenzione che è reale perché ci siamo inventati noi però non è vero un cazzo le leggi la morale qualsiasi cosa non è vero niente sono cose che sentiamo noi e soprattutto il concetto di il concetto non il concetto di libero arbitrio che è una roba che mi fa impazzire lo trovo veramente meraviglioso il fatto che secondo me attualmente non esista lo trovo meraviglioso perché da un certo punto di vista se lo accetti come come concetto ti toglie una parte di pesantezza non significa che ti de-responsabilizza totalmente perché purtroppo non funziona così sarebbe meraviglioso ma non funziona così però un po' questa consapevolezza ti fa percepire che fai e non starti troppo a preoccupare perché tanto non puoi fare niente di diverso da quello che farai questo è un po' il concetto a cui penso tutto il giorno tutti i giorni fai del tuo meglio sì però fai del tuo meglio è comunque una roba di retaggio molto più nostra del fai del tuo meglio piuttosto che sia una brava persona piuttosto la mia idea del momento poi magari se qualcuno mi sente parla pensa che sono il matto del paese però la mia idea del momento è che non riuscirei a fare niente di diverso da quello che farai adesso non ti voglio asciugare perché nonostante come ti ho già detto ho provato e riprovato diverse volte questo discorso quindi sono abbastanza sicuro di potertelo spiegare in un tempo ragionevole comunque è un po' un'asciugata e quindi evito per adesso evito però sì questi sono i miei pensieri del momento ora che ci penso sono legati a questo è interessante dai c'era una domanda che ti avrei fatto dopo che è se ti senti mai solo però penso che con questi pensieri dubito tu abbia il tempo di sentirti da solo no allora a volte mi sento solo mi sento solo dal fatto che non faccio molta vita sociale ultimamente mi sento solo anche dal fatto ne parlavo con un'amica e poi con un amico non mi ero mai reso conto del micro barra macro trauma che per noi che abbiamo lasciato la nostra città il nostro paese natale per spostarci altrove ma che sia a 100 km con me a 1000 poi ovviamente se ci metti la difficoltà della lingua e bla 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 saranno sicuramente step successivi ma il semplice fatto di aver mollato quello che avevi costruito e trovarti in un luogo estraneo per quanto accogliente o non accogliente per quanto uno abbia già avuto modo di farsi nuove amicizie è vero che c'è stato un lockdown di mezzo quindi è stato comunque complicato però a volte c'è questa sensazione di solitudine dovuta al fatto di rendersi conto che non c'è nessuno che ha vissuto con te i momenti dell'adolescenza e questa è una cosa che ha un peso specifico è veramente strano perché qui tutte le persone mi conoscono da quando sono adulto cioè nessuno mi ha mai visto ubriacarmi a vent'anni andare in discoteca con gli occhiali da sole a petto nudo cioè tutta una serie di cose di cui non è che ci sia da essere orgogliosi intendiamoci però sono tutti quegli step che comunque ti legano a a delle persone che poi magari ti stanno pure sul cazzo anzi quasi sicuramente ti stanno anche sul cazzo perché ovviamente quando il legame è stretto o è abbastanza viscerale ti devi prendere il bello e il brutto che questo ti dà però quella consapevolezza di dire ok tu ci sei dal giorno non lo so dal giorno 1 probabilmente nella mia vita nessuno a parte mia madre però ci sei dal giorno 2 dal giorno 3 qui invece a volte mi rendo conto che parlo con gente che non c'è cioè fondamentalmente non c'è mai stata da nessun giorno e tuttora non c'è perché anch'io faccio abbastanza fatica a fare entrare persone nella mia vita perché sto benissimo da solo intendiamoci non perché peraltro però sì allora nel mio caso rivedere persone del passato in generale può essere sia gradevole che sgradevole sia più che sgradevole superfluo non con tutte le persone poi vabbè la mia è una posizione un po' particolare perché comunque con un minimo di di fama diciamo così soprattutto venendo da un posto medio piccolo non dalla metropoli quindi è tutto amplificato e quindi come poi si rinterfaccia spesso una persona nei miei confronti è già differente cioè quasi che ci tiene cioè le fa piacere vedermi perché comunque sono mudimbi sono quello che ha fatto questo che ha fatto quello e tu mi conosci è bella per noi poi non dico che mi leccano il culo assolutamente non era questo il messaggio però molte situazioni tipiche di persone che hanno fatto le scuole insieme e si incontrano si vedono per strada e tutti e due fingono di non vedersi nel mio caso è molto raro perché comunque fa piacere fa profilo tra virgolette il venirmi a salutare però quello che dicevo io è tu mi parli di un'amica ok che hai nella tua vita io non ho nemmeno quell'amico attualmente perché il mio amico abita a San Benedetto cioè io ho proprio perso tutte le persone con cui mi sentivo normalmente e il telefono e le videochiamate non sono ovviamente abbastanza cioè sono depagliativi ma lascia nel tempo che trovano è il vedersi nel fine settimana e il chiacchierare dopo due tre bicchieri ma anche senza due tre bicchieri ma il venire a casa tua cioè quella semi quotidianità semi che però è di presenza e io ho perso tutto da quel punto di vista poi quando torno giù ovviamente le becco le persone ma nei limiti perché comunque torni giù e uno lavora e uno ha due figli e un altro c'è una relazione e un altro va a suonare io sto lì pochi giorni quindi parto sempre con i migliori propositi ma alla fine della fiera non faccio niente cioè sto con mia madre beccherò due persone e poi ci rivediamo tra sei mesi di un anno quella cosa effettivamente qui mi fa percepire di più la solitudine poi non sono mai stato un animale da cioè negli anni perlomeno mi sono abbastanza calmato come quasi tutti a livello di vita sociale però quei piccoli legami e pochi veramente pochi cioè due tre persone erano già tantissime nella mia vita come persone che davvero reputo amiche amiche confidenti che se sto male chiamo te e attualmente qui non non sento di avere quelle che hanno uno storico nei miei confronti e le altre che sento di avere o abitano comunque in un'altra città che poi ti conosci per lavoro ad altro uno è quel deficiente di Victor Bomi che spesso viene in chat e lo insulto però lui abita a Torino e quindi telefono 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 e poi è una merda perché poi quando ti vedi di persona comunque ti rendi conto che il rapporto non l'hai costruito di persona l'hai costruito a distanza e quindi è sempre diverso cioè devi di nuovo rifare un altro tipo di lavoro da capo io ho avuto diverse relazioni a distanza quindi so di cosa parlo ed è potenzialmente nel mio caso sicuramente una merda perché doppio triplo lavoro perché esattamente come io e te in questo momento se ci conoscessimo e spero che prima o poi succederà dal vivo non pensare che non dovremo rifare quasi tutto da capo perché sarà totalmente diverso dovremo sostenere lo sguardo l'uno dell'altro ci saranno tante cose differenti poi tu mi hai detto già gli abbracci questo no quello hai già messo 3000 paletti me li sono segnati tutti non ti preoccupare ma penso che non sosterrai neanche lo sguardo con gli occhiali da sole tipo da sci per essere sicura e quindi no non posso ovviamente dire che non sento la solitudine però posso dire che non la soffro così tanto mi rendo conto di non soffrirla perché io vivo in 25 metri quadri e ci passo il 99% del tempo conosco persone che in questa situazione avrebbero già dato di matto ma realmente non sto dicendo cioè conosco persone che non riescono a stare dentro casa un giorno perché gli viene l'ansia io un po' mi preoccupo del fatto che ci riesca a stare tutto questo tempo però fortunatamente non mi viene l'ansia quando esco quindi ancora reggo botta ok quello penso sia l'importante sì 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 allora vado con le altre domande che sennò non riusciamo a fare nient'altro o mai allora se c'è perché non so se ce l'hai ma se c'è qual è la canzone che ti rende incondizionatamente triste cioè una canzone che se tu la senti madonna voglio morire cioè ho fatto capire l'idea se c'è perché non è detto che ci sia mi dovresti dare una definizione di tristezza cioè nel senso voglio morire però ovviamente cioè è una canzone che vai ad ascoltare prima di tutto cioè nonostante ti fa stare triste però in determinate situazioni potresti andarla a cercare cioè tipo sto male voglio sta male appieno proprio voglio voglio piangermi addosso ma non ci riesco ascolto quella canzone riesco a piangere tutte le mie lacrime allora qui tocchi un tastone perché purtroppo grazie al patriarcato io e il pianto siamo proprio due rette che non solo non si incrociano mai ma si sputano pure a distanza faccio faccio fatica faccio veramente fatica non ti dico che non riesco nel senso che non ho mai non ho più memoria di un pianto liberatorio non ce l'ho proprio cioè tutte le poche volte che sono riuscito a piangere è successo per poco mi sono subito irrigidito e ho subito chiuso i rubinetti è una fatica cioè veramente è una fatica non ce la faccio sono andato pure dalla psicologa per un anno e rotti dicendole ti prego dimmi come si fa a piangere niente siamo usciti così uguale a prima da quel punto di vista quindi non ho una canzone però ti posso citare un episodio poetica di Cesare Cremonini è stata la canzone che mi ha fatto piangere per la mia ultima relazione dopo che era finita finita per mano mia ho ascoltato quella canzone a distanza di credo qualche mese quindi avevo considera che essendo finita per mano mia ovviamente ero già arrivato preparato al momento della rottura e quindi tante cose le avevo già spurgate nella mia testa poi arriva la rottura che comunque è sempre una mazzata tempo di gestazione poi è successo il lockdown dopo mi sembra un paio di settimane quindi mi sono ritrovato qui da solo ho avuto tutto il tempo di pensare di fare i miei ragionamenti sui cammelli e vulcani e avevo tolto dalla testa tutto ascolto poetica che mi piace in generale come canzone mi sono ritrovato a fare i piatti cantare con le lacrime che scendevano anche quando poi saremo stanchi diciamo quello è stato l'apice della canzone che è andata veramente a toccare un nervo però in generale però in generale non ho in mente una canzone in particolare a cui mi affidi vai prossima domanda oggi questa live è tutta dedicata a te la dovevo chiamare Francine no no ti dico a me sta piacendo molto questa live poi non so il pubblico anche perché non sto guardando minimamente la chat cioè potrebbe essere successo qualsiasi cosa ogni tanto leggo ma poco ok ok leggo allora prossima domanda molto scialla se in questo momento potessi potessi andare ovunque dove vorresti andare preciso che potresti anche cambiare l'anno cioè tu mi dici vorrei andare al pre Sanremo cioè per dirti quindi ovunque sia temporalmente che geograficamente ok no temporalmente non andrei da nessuna parte cioè non ho questa è una cosa che sento questo è una cosa che sento spesso dire o chiedere a me va bene tutto il passato cioè tutto il mio passato ma non per cambiarlo anche solo per rivivere un momento però riviverlo con la testa di adesso cioè sarei comunque io o andrei indietro e sarebbe una nuova volta tu di adesso no 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 cioè ho proprio non so descriverti la sensazione ti direi paura barra disgusto poi trova tu qualcosa nel mezzo nell'idea di rivivere un bel momento perché credo sia proprio il modo migliore per distruggerlo cioè proprio il potere di un ricordo sta proprio nel fatto che è un ricordo se lo vai a rivivere secondo me è una catastrofe come tutte le volte che tipo sento una battuta infatti ho smesso di farla sta roba sento una battuta vedo una scena meravigliosa in un film o sento qualcosa di strafigo rimetto indietro riascolto e non è più figo come prima cioè sempre figo ma ha perso quella sorpresa perché non è più la prima volta cioè la prima volta ce n'è solo una quindi no se potessi andare da qualche parte ti dico in questo momento davvero non sono forse troppo concentrato sul mio presente e mi sento talmente tanto impegnato e volontariamente impegnato e volenteroso nell'impegnarmi nel mio presente che attualmente non non stare da nessun'altra parte non so se è un po' troppo medium come risposta no probabilmente medium è una cosa bellissima però no è una cosa bellissima perché significa che sei esattamente nel punto in cui vorresti essere sì per metà l'altra metà della lettura che ti posso dare io è che sono talmente tanto in sbattimento che non riesco a concedermi nient'altro facciamo un mix delle due cose per onesta intellettuale però la risposta si rimane questa adesso non andrei da nessun'altra parte perché sto concentrato in sbattimento sul mio presente e voglio vivermi cioè sono veramente curioso di capire dove cazzo mi porterà la mia vita sono troppo curioso e quindi tipo sto guardando il film della mia vita e non voglio nemmeno andare a cesso due secondi perché non mi voglio perdere qualsiasi cosa possa succedere nel frattempo questa è un po' l'immagine che posso darti del mio presente adesso ok ultima domanda un po' classica però se qualcuno ti desse la possibilità di vedere da adesso fino alla fine dei tuoi giorni tutta la tua vita la vedresti o no? qui però sull'ultima domanda tu vai a toccare il tasto gigante che ti ho già detto prima del libero arbitrio ovvero sia vedere quello che succederà e adesso ti dico di sì proprio perché sono in fissa con questa teoria e mi affascina troppo la cosa mi affascina troppo cioè mi fare troppo un film poi magari qualcuno ti direbbe no non voglio vedere perché poi mi sciupo il finale però per quella che è la mia testa adesso se qualcuno mi desse la possibilità la coglierei ben convinto che cogliere quella possibilità faceva già parte fa già parte di quello che sarà il mio cammino quindi sì vediamo che cacchio succede in futuro e poi sarei troppo curioso di capire come cazzo farà combaciare con con la persona che sono adesso cioè mi manda gen trip la cosa potrei stare a chiacchierare per un'ora anche perché ti giuro ci pensavo oggi mentre facevo i piatti pensavo sempre spiegando la mia teoria a questa persona che in realtà non era qui con me ma nella mia testa pensavo proprio a questa cosa per semplificarla ancora di più per semplificare ancora di più il fatto che sia tutto predeterminato bla 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 è come se una veggente che siamo sicuri al 100% che ci azzeccherà e ti dirà tu tot giorno morirai in tot maniera e ti esplode il cervello pensando ma se io già lo so che morirò in quella maniera come cazzo io eviterò di andare in quel posto in tot giorno e non dovrei morire però il fatto che io muoia lì tiene già conto della componente della veggente che mi dice in anticipo che io morirò così e quindi mi intrippa di brutto sta roba lo farei immediatamente ma proprio subito subito vabbè un po' come Ragnar in Vikings aspetta vai ricordami ricordami perché l'ho visto tutto praticamente Ragnar prima della morte il veggente gli aveva detto che sarebbe morto in un determinato modo ok e lui dice no non succederà così non succederà così e alla fine non è morto così quindi lui si è cervellato per capire ok insomma come sarebbe morto e invece alla fine è morto in un altro modo simile però non esattamente con le parole che gli aveva detto il veggente ok cioè ci è rimasto quasi peggio dal fatto che il veggente gli aveva detto esatto cioè saresti morto così e invece poi non è morto così cazzarola eh non ricordavo questa questa parte però sì 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 ok adesso che me l'hai detta ci sono ci sono dai molto figo molto figo e abbiamo già finito le domande dopo solo sette ore e abbiamo finito le domande purtroppo mannaggia cioè in realtà ne avevo ne avevo altre in mente però ho detto no va veramente a finire troppo tardi non volevo anche se ci abbiamo messo comunque un sacco di tempo non volevo portare via troppo tempo agli altri che comunque ringrazio perché perché ho portato via comunque un sacco di tempo va bene Francine grazie ancora è stato molto bello grazie a te della possibilità ciao ciao